C'è Fonari in Campbell, c'è Ganeto, Tommaso, c'è Spiroleca in panchina, da quando è arrivato Ferrara ne ha vinte 3 su 4 e di cui 3 consecutive, è davvero cambiata la storia ha affrontato un'avversaria che era già un po' sul fondo del baratro, si è risollevata e adesso arriva segnando a raffica tra l'altro il miglior attacco dell'ultimo mese Eh sì, è cambiato tutto rispetto ormai a qualche mese fa, è una partita da giocare, è una partita tosta noi non vogliamo fermarci qua con le vittorie quindi la prepareremo bene e cerchiamo di vincere Tommaso, più in generale, due vittorie consecutive, ora Ferrara, pausa che comunque fa bene per recuperare tutti a pieno, dopo che avete dovuto anche correre dietro a un recupero velocizzato vista la situazione e poi altre due trasferte a Cento, anche se si gioca a San Lazaro e ancora a Piacenza, che è una fase cruciale direi Una fase cruciale perché lo sappiamo tutti che il nostro finale di stagione comunque è complicato andiamo, giochiamo contro Treviso in casa, a Udine contro la Fortitudo e sono partite toste e queste partite per noi, queste che arrivano in questo periodo sono fondamentali per cercare di mettere punti in saccoccia per poi arrivare con la piena serenità a giocare partite contro davvero queste corazzate Grazie 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 a tutti